Oggi di ospitare Emily Brown che ci raggiunge da New York. Emily Brown è docente, come tutti sapete, alla City University of New York, la celebre CUNY ed è una contesissima esperta planetaria dell'opera di De Chirico, direi anche meticolosa e preziosissima figura di affermazione dell'arte italiana del Novecento in Oltreoceano. Ci parlerà oggi di un tema che solletica qualunque storico dell'arte, è un tema di raffronti con le fonti figurative del passato, si intitola Poussin ed è Chirico e immagino che incuriosisca tutti voi come noi. Lascio la parola subito a Emily Brown per recuperare questo piccolo ritardo dell'inizio. Buon ascolto. I due quadri che vedete sullo schermo vi daranno forse l'impressione di avere ben poco in comune. Quello a destra è un altro ritratto di Poussin datato 1650. A sinistra abbiamo invece la salute dell'ami lontan, il saluto dell'amico lontano di De Chirico. dipinto nel 1916 durante il soggiorno del pittore a Ferrara durante la Prima Guerra Mondiale. Le due opere distano fra di loro parecchi secoli e tale distanza evidenzia le differenze tra un'opera d'arte che definiremmo classica e una modernista. Tuttavia, entrambe le immagini si fondano sulle tecniche tradizionali dell'arte figurativa, cioè sulla corrispendenza visiva tra un oggetto esistente in natura e la sua rappresentazione sul piano pittorico. In Poussin vediamo il volto dell'artista e il suo atelier. Nel De Chirico possiamo identificare gli oggetti raffegherati. In basso, un pane a forma di croce. Inoltre, un biscotto rettangolare e al centro, un occhio. Ma mentre si capisce che l'opera di Poussin è un altro ritratto, possiamo trovarci spiazzati davanti agli oggetti assemblati da De Chirico e non capirne il senso. E anche se entrambi gli artisti rappresentano oggetti riconoscibili, lo stile appare fortemente diverso. L'impressione che abbiamo alla fine è di trovarci di fronte a due visioni del mondo completamente diverse. Lo scopo della mia reazione stasera è evidenziare come, in realtà, questi due dipinti abbiano molto in comune. Dimostrerò, infatti, che nel dipingere l'opera che vedete e nel intitolarla Il saluto dell'amico lontano, De Chirico aveva in mente proprio questo quadro di Poussin. È l'unica natura morta dipinta da De Chirico che usa il blu, il bianco e il rosso, i colori della bandiera francese. Per comprendere il legame tra il dipinto di De Chirico e quello di Poussin, dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo di spettatori e soffermarci non solo su ciò che vediamo, ma sul modo in cui i due artisti si rivolgono a noi attraverso i quadri. È da notare che sia De Chirico che Poussin hanno costruito la loro composizione attraverso una serie di superfici piatte e come dipinti nei dipinti. Lo spazio privo di profondità dei piani soffrapposti ci constringe ad affrontare l'immagine da vicino ed esse affrontano noi, quasi uscendo dai confini della cornice per entrare nel nostro spazio, lo spazio dell'aspettatore. E se avete osservato bene i due quadri sullo schermo, avrete notato la presenza di altri sguardi e di altri occhi. La donna nel dipinto a sinistra guarda qualcosa o qualcuno che noi non vediamo. Dalle braccia si tendono a cingerle le spalle. Sul capo ha un diadema d'oro su quale è rifiurato il profilo di un occhio. È un occhio avulso dal corpo, proprio come quello che abbiamo di fronte nel quadro di De Chirico. L'autolitrato di Poussin viene dal tempo interpretato dagli storici dell'arte come un'allegoria dell'arte della pittura. Oggi intendo dimostrarvi che quest'opera di De Chirico è a sua volta un autoritrato e un'allegoria della rappresentazione e dello sguardo. Sia Poussin che De Chirico erano convinti che guardare un quadro fosse un'esperienza che va al di là di semplici atto di vedere, un'esperienza che implica un complesso dialogo tra pittore e spettatore. Questo non è De Chirico. De Chirico ci ha lasciato molti scritti sull'arte e sull'altri artisti dimostrando la sua vasta conoscenza della storia dell'arte occidentale dal Drea del Castagno a Paul Gauguin scrivendo di altri artisti De Chirico ci rivella che ama e chi non ama e fornisce indizi sul significato e lo scopo della sua produzione artistica. Caravaggio è ai primi posti nella lista degli artisti che egli non apprezza. Il pezzo grosso del Seicento lo chiama. Dato che è in corso a Roma la mostra Caravaggio non posso fare a meno di citare la stroncatura di De Chirico e lo cito. Le figure di Caravaggio hanno tutte indistintamente un'area di famiglia. Sembrano figli dello stesso padre idiota, barboni di santi e di apostoli, facce stupidi di soldati, visi banali di donne, si seguono sulle telli bitumose e sporchi con la noia e la tristezza delle comparsi povere sui teatri di provincia. Fine citazione. De Chirico ovviamente era molto reciso nei sui giudizi e non dobbiamo necessariamente condividere i suoi gusti. Il populismo e la vera semiglianza di Caravaggio erano l'esatto apposto degli effetti che egli ricercava nella sua arte. Il naturalismo del Seicento collieva l'immediatezza e la sensualità della vita quotidiana e lo spettatore poteva osservare passivamente la scena che gli presentava davanti agli occhi. Al contrario, De Chirico ammarrava i pittori in cui l'artificio era reso palese, per i quali dipingere era un mezzo per cogliere la natura insondabile delle cose, sasso o statua che fossero in tutta l'allora enigmatica solitudine. Possiamo definire De Chirico un pittore letterario o pittore di idee, un artista per cui le parole, il linguaggio, l'iconografia e i segni erano ben più importanti dello spettacolo o degli effetti naturalistici. L'obiettivo delle sue prime opere non era quello di divertire, intrattenere o impressionare, ma di coinvolgere l'osservatore in riflessioni profonde e nella speculazione medifisica, porlo di fronte ad un enigma di decifrare. Per questo fin dall'isordi della sua carriera, le predilezioni di De Chirico endò a Boclin e Poussin che preferivano la ragione alle emozioni e puntavano a suscitare una reazione precisa nell'aspettatore. Al pari di De Chirico entrambi intendevano la pittura come arte di erudizione, non semplice specchio della natura. È pur vero che la maggior parte degli scritti di De Chirico riguardanti altri artisti sono posteriore ai 1920, ossia vengono dopo i periodi di Parigi e di Ferrara, durante i quali Elie dipinse i suoi quadri più importanti, tra cui il saluto dell'amico lontano. Ma già nei rarissimi scritti del periodo perigino, Poussin e Boclin sono tra i pochi artisti menzionati per aver influito sullo sviluppo dell'arte medifisica di De Chirico. De Chirico, a sua detta, intendeva creare immagini che suscettassero un senso di sorpresa, turbamento e rivelazione, quelli stessi da lui provati leggendo la seratustra di Nietzsche e Pinocchio di Colodi. Escrivete in seguito e lo cito «Analogamente credo che un quadro per essere veramente profondo debba porsi su questo terreno. Boclin e Poussin arrivarono in pittura ai limiti estremi. Ancora uno sforzo e anche la pittura avrà il suo dipinto che ci porterà al di là di tutti i dipinti». Fine citazione Poussin e Boclin in altri termini furono per De Chirico pietre miliardi sulla via dell'invenzione di un nuovo tipo d'arte, l'arte medifisica. Come noto De Chirico si inspirò all'arte di Boclin per creare la sua iconografia del disagio medifisico. Da Boclin prese la figura con mantello visto da dietro e il senso di solitudine mistero e immobilità. Ma De Chirico riconosce che Boclin subì a sua volta l'influenza fondamentale di Poussin. Scrive che quando Boclin infine giunse a Parigi da Düsseldorf il pittore che maggiormente l'impressionò fu Nicolas Poussin e lo copiò amorosamente e andò cercando quei passaggi meravigliose. Fine citazione. De Chirico nazionalista benché cosmopolita non poteva non essere colpito da Poussin che era la somma di ogni possibile genealogia un francese che aveva scelto di vivere in Italia e che aveva colto l'essenza del classico dipingendo i passaggi romani. Che cosa sarebbe Poussin senza Roma e la campagna romana si chiedeva De Chirico. Inoltre tesi ribadita dei decini di pubblicazioni cui De Chirico aveva accesso Poussin rappresentava il massimo esempio del pittore antiquario o cosiddetto letterario. Al pari di De Chirico Poussin aveva una profonda conoscenza dei classici e non sopportava i giudizi delle gente ignorante e insensibile per usare le sue parole uno snob intellettuale in altri termini proprio come De Chirico. Chiaramente De Chirico si identificava profondamente con Poussin per motivi di carattere artistico e biografico. Spesso si sostiene che Boclin abbia influito sull'uso che De Chirico fa dell'architettura per incondiciare i suoi passaggi contribuendo all'esattezza e chiarezza di una determinata operazione. Ma in veri saggi De Chirico stesso fa risalire a Poussin l'artificio medifisico degli spazi e delle prospettive in cornice. Con riferimento al rato delle sabine De Chirico scrive che Poussin ha raggiunto il massimo grado di potenza architettonica. Malgrado il movimento della lotta i corpi hanno quel divino senso di stabilità e immobilità senza il quale un'opera non giunge mai alla grande arte. Fino a citazione. Sappiamo che De Chirico vide e studiò quel dipinto assieme ad altri all'Uvra. Egli cita anche la primavera e l'ottorno parte del ciclo delle quattro stagioni dipinte per il duco di Richelieu. e sappiamo tra l'altro che a Parigi De Chirico frequentava la biblioteca Richelieu e leggeva molti resoconti dei dibattiti sulla pittura che si tenevano presso l'Académie Royale du Pentieu. In particolare De Chirico apprezzava il modo in cui Poussin piegheva la natura al volere della prospettiva e dell'architettura componendo passaggi che erano come scenografia teatrale. Cito Il passaggio chiuso nella cata del portico come nel quadrato o nel rettengolo della finestra acquista maggior valore medifisico poiché si solidifica e viene isolato dallo spazio che la circonda. Fine citazione Come sapete la mostra in corso qui a Pala Expo è intitolata La natura secondo De Chirico Possiamo ben chiederci se la natura secondo De Chirico la natura costretta in interni la natura resa artificiale la natura inserita in interni architettonici come in questi dipinti dagli anni venti non fosse profondamente ispirata dai passaggi di Poussin La natura secondo Poussin scrissa De Chirico era la natura metafisicitata della costruzione architettonica dove gli alberi acquistano aspetto di costruzione di impalcatura di scheletri e di etonomie Ma io direi che più che dai passaggi De Chirico era affascinato da come Poussin elaborava nei suoi dipinti il tema della visione e dell'interpretazione in pittura Poussin collocava nei suoi quadri delle figure che la storica dell'arte Svetlana Elpers chiama Lookers osservatore figure umane che dall'intorno del quadro si guardano oppure guardano lo spettatore sono testimonio di un qualche evento oppure ci fissino in modo da orientare la nostra visione e l'interpretazione di ciò che vediamo Gli osservatori sono parte integrante della costruzione del significato deliberatamente attuato dall'artista e l'attore di messaggi tramittente e destinatario sia all'intorno che all'esterno del quadro due dipinti di Poussin tra i più famosi et in Arcadia Ego e i cecchi di Gerico che di Chirico ebbe occasioni di vedere all'uva sono emblematici della differenza fra le figure che si limitano a vedere un evento ed altri che lo guardano attivamente e lo comprendono L'arte non è lo specchio della natura Gli osservatori fettizi e reale sono sollecitati a riflettere sul significato della visione codificato all'interno dell'immagine In gran parte dei dipinti della tradizione occidentale come in questi due quadri di Poussin le figure umane sono dimentiche della nostra presenza anche se i loro sguardi servono a guidare la nostra interpretazione del significato di ciò che vediamo In altri famosi dipinti che visualizzano lo stato della rappresentazione l'oservatore generalmente convolge direttamente lo spettatore riconoscendo la sua presenza attraverso uno scambio di sguardi ciò che noi eserviamo ci osserva a sua volta e interpella la nostra realtà soffertendo quelli che sono i roli previsti è il caso del famoso autoritrato di Poussin che abbiamo visto all'inizio esposto all'ouvre del 1797 il mondo fittizio che eserviamo riconosce la nostra presenza osservandoci Las Meninas di Velázquez del 1656 è l'epitomia di questo aeroporto dielettico tra tela e spettatore sia l'autoditrato di Velázquez che quello di Poussin furono dipinti per un ben preciso mecenate e pensati come trattati visuali sull'arte pittorica in entrambi i casi veniamo introdotti nell'atelier dell'artista in cui vediamo gli attrezzi del mestiere l'arte oggetto d'arte cavalletti telai cornici e altri dipinti inoltre siamo introdotti nel mondo fittizio dell'artista grazie alla sua perdonanza della prospettiva che è la base dell'arte figurativa occidentale in effetti entrambe le opere identificano l'arte tradizionale del dipingere con l'arte della prospettiva Velázquez lo fa attraverso le numerose linee visuali degli osservatori lo specchio o l'immagine in cornici del re e della regina la figura alla porta l'entourage in primo piano e gli occhi dall'artista linee che convergono tutte sullo spettatore che li guarda in poussin vediamo la prospettiva stessa raffigurata emblicamatamente dalla donna con il diadema su cui è disegnato l'occhio la donna è la pittura che porta sulla testa emblicamatamente una visione speciale che non si ferma alla visione naturale l'occhio sul diadema invece rappresenta la visione razionale attenta ottenuta attraverso la prospettiva attraverso cui pittura ottiene la visione e la regione superiore che le sono proprie osservatori autoritratti e prospettive bene che impatto hanno sull'arte di De Chirico per quanto riguarda la prospettiva la risposta è semplice e fondamentale nei suoi quadri come ben noto De Chirico sovverte la prospettiva tradizionale al fine di creare il suo spazio inquietante negazione di qualunque univoca visione del mondo o sistema di conoscenze ma in ogni caso la prospettiva resta ed è la chiave della sua maestria pittorica e della sua arte medifisica è sempre più che presente nelle complesse inversioni spaziali nelle prospettive di portici erarchi e persino disegnate in forma di incomprensibili diagramme sulla lavagna i disegni sulla lavagna sono una parodia dei punti delle linee e dei piani della costruzione legittima di Leon Battista Alberti e simboleggiano l'insussaggine della geometria pura mentre le molteplici linee di orizzonte che De Chirico usa per costruire la sua composizione rendono visibile la relatività di tutti i punti di osservazione siamo all'interno di visione del mondo creato da noi dove è l'assurretore nei dipinti di De Chirico nelle sue prime opere ci sono solo statue o figure viste di spalle oppure abbiamo statue dello sguardo vuoto o pupille coperte dai occhiali da sole De Chirico problemizza lo sguardo e così facendo ci rende più consapevole dall'atto di guardare ma è con la figura del manichino che il ruolo dell'osservatore diventa centrale nell'arte di De Chirico i manichini guardano dipinti nei dipinti o ci fissano o si fissano anche se privi di voti i grafismi sul capo servono a intrappolare il nostro sguardo sia che si tratti di un cerchio formato delle linee curve intrecciate da un X o delle linee circolari talvolta il manichino alla testa cava è un doppio sguardo capace di osservare l'immagine iconiciata posta di fronte a lui e contemporaneamente restituire il nostro sguardo osserva noi che lo guardiamo osservare una raffigurazione a imitazioni della famosa arte della pittura di Vermeer di 1666 in cui vediamo da dietro il pittore che dipinge il quadro in Le duple rêve de printemps guardiamo il passaggio in lontananza o siamo portati a contemplare il dipinto nel dipinto forse non ci accorgiamo subito che il manichino fa capolino dall'angolo superiore destro di un portico e ci osserva l'incrocio di sguardi ci fa trasalire osserviamo l'osservatore che ci osserva e il nostro senso di confini risulta distabilizzato ed è qui che entra in scena l'ottoritratto è ampiamente documentato che il manichino nell'opera di De Chirico è la controfigura dell'artista stesso De Chirico aveva in precedenza dipinto due otterritrati tradizionali e ne dipinse molti altri in seguito nella sua carriera ma dovete abbandonare più o meno questa forma di autorepresentazione durante il periodo pieno medifisico dal 14 al 18 merendo in fine dei conti a dimostrare l'assenza di verità nell'apparenza della natura creo quindi un'uova forma di otterritrato passato su simboli non sulla somiglianza univoca il manichino senza volto manca di occhi e bocca con cui interpretare il mondo sensibile perché è dotato della visione superiore e del linguaggio profettico dell'artista profetta l'identità dell'artista come manichino è rafforzata dai simboli del mestiere dell'artista che lo accompagnano lo accompagnano il cavalletto e la lavagna in cornice con il diagramma delle composizioni di De Chirico come in il vigente l'artista manichino è sorretto dall'angolo di un telaio la cornice di legno su cui si tende la tela il telaio è la realtà dietro le quinte l'impalcatura che regge l'immagine della natura dipinta sulla tela nel rivelarci gli strategimi che stanno dietro l'illusione De Chirico ci ricorda che il manichino stesso non è che l'apparenza di un'apparenza non ci sono manichine però ne saluto dall'amico lontano quando De Chirico lasciò Parigi per Ferrara nell'estate del quindici smisce di dipingere i manichini si dedicò invece c'è la natura morta e precisamente al cosiddetto tromploi da cavaletto ovviamente il tromploi si può riferire a qualunque forma di illusionismo tradizionale ma come genere specifico di natura morta mira intenzionalmente ad ingannare l'immagine non è più un'illusione pellesi di cui compiacersi ma qualcosa di così illogicamente autentico da darci la falsa impressione seppure momentanea di osservare la realtà solo gli oggetti inanimati natura morta possono essere protagonisti nel teatro di tromploi poiché è solo la riparazione di cose che per natura non si muovono in grado di ingannare l'occhio difetto specifico è quello di dare allo spettatore l'impressione di imbattirsi in oggetti comuni perfetti nella loro esistenza nella loro realtà indipendentemente dallo sguardo umano il tromploi da cavalletto sono sempre ambientati in spazi ristretti in genere nell'atelier dell'artista e mostrano gli strumenti del mestiere del pittore ammassati all'infiuso dello stesso spazio angusto nel caso dell'atelier dell'artista gli oggetti rappresentati spesso sono specchio dagli strumenti stessi con cui l'artista ha creato lo scenario ingannevole che abbiamo di fronte o includono dipinti disegni e stampe in mezzo al caos nel periodo ferrerese di Chirico costruì le sue composizioni in una serie di piani verticali come i portacarte le lavagne e i rettengoli piatti all'interno di rettengoli caratteristici della tradizione tradizionale natura morte tramploi in tutte le nature morte del periodo ferrerese troviamo i cavaletti i talai le cornici e gli attrezzi da disegno che sono oggetto tipico del classico tramploi da cavaletto composizione metafisica alla destra città uno degli artifici classici del genere la raffigurazione illusionistica delle superfici venate di una parete o di un tavolo in legno grezzo ma di chitico ovviamente non intende davvero ingannare l'occhio e li crea un evidente falso nel falso a simbolaggiare il tramploi che inganna deliberatamente se stesso in questo si identifica con i suoi contemporanei brach e picasso anche essi impegnati nel gioco del vero falso con collage di natura morte che amicano verso la tradizione del tramploi in particolare le superfici ligni di un ormai dietto o di un tavolo essi inserivano meccanicamente carte stampate finto legno nel loro collage oppure realizzavano l'imitazione intenzionalmente in maldestra della venatura del legno come qui nel centro qua di chitico inserisce in maniera analoga la pseudo elusione di una finta venatura del legno per effettuare un espice di strappo ropendo l'incantesimo di un campo spaziale unificato lo stesso campo spaziale unificato che viene interrotto quando l'oservatore interno al dipinto ci guarda attraverso una serie di aggressive minore spaziale di chitico si constringe ad affrontare gli oggetti e gli oggetti affrontano noi con forza portandoci a mettere in discussione le nostre abituali strutture di categorizzazione è ben noto che gli oggetti indipinti a trompe l'oe analogamente prive di profondità sembrano avere una vita propria e uno degli effetti desiderati invece di sottomettersi al nostro sguardo lo restituiscono aggressivamente nelle nature morte ferrarese di di chitico sembra che il pane da strane forme in particolare ci fissi di chitico si riferiva a questo genere di pane come ad altri fantasmi annunziatori messaggeri di rivelazione nascosti nelle cose più banali di chitico trovava questi dolci cito dolci biscotti delle forme oltremondo medifisiche e strano fine citazione nelle peniterie del vecchio ghetto ebraico di Ferrara le strade e i negozi dell'antico ghetto divennerò uno dei suoi luoghi preferiti durante gli anni della guerra quando si è emersi nella cultura ebraica e nei testi esoterici nella bibbia ebraico vocaboli riferiti al voti e in particolare al voto di dio sono panim e penai in italiano questi sono giochi di parole su pane il pane di chitico acquisisce quindi il valore fisionomico ed innotativo dal viso sia perché fissa lo spettatore sia per il gioco di parola in lingua ebraica lo sguardo omnivedente affronta lo spettatore nell'altro motivo caratteristico delle serie di tromploi di Ferrara uno solo occhio avvulso dal corpo disegnato di profilo o raffigurato in piena visione frontale assomiglianza dello schema rudimentale che si trova nei manuali di disegno esso simboleggia anche l'arte della pittura e le sue facoltà cognitivi e di attenzione simboleggia inoltre la prospettiva stessa l'occhio al centro della proiezione con essa attraverso i raggi visuali agli oggetti sul piano di terra tra altri ruoli l'occhio in piena vista assuma quello di incarnare la previgenza e l'omnipresenza divina l'occhio che ti vede siamo osservati per la verità nella natura morte di De Chirico le corsaire la salute al milontan e l'ange juif l'occhio vigile e inquietante coglie di sorpresa lo spettatore come per i volti ebraici del pane panì panim l'occhio incarna lo sguardo riflesso ma l'occhio come simbolo dell'arte e della pittura rappresenta anche lo sguardo dell'artista stesso nelle immagini dell'artista Manichino ad accorderci era un volto privo di occhi ora occhi privi di volto ci interpellano a di là della soglia della tela l'occhio rappresenta un componente del volto dell'artista ed evoca il suo sguardo che ci saluta da lontano vediamo quindi che l'autoletrato di Poussa e il saluto dell'amico lontano di De Chirico hanno in comune i simboli della prospettiva pittura i due dipinti hanno in comune anche lo spazio privo di profondità e l'ammasso di rettengoli incorniciati che sottolineano maggiormente la presenza dello sguardo quasi chiamandoci ma lì accumena anche il fatto di essere autoritratti che trasmettono messaggi sull'arte a persone amiche e adesso vediamo perché vi invito ad osservare che Poussa ferma l'opera usando un'escrizione dipinta che è a sua volta un dipinto nel dipinto così sulla tela incorniciata proprio alle sue spalle leggiamo effigie di Nicolas Poussa effigie di Nicolas Poussa pittore dell'esandelis nell'anno jubilare 1650 non è una normale ferma apposta dall'artista sulla superficie di un dipinto una volta completato fa parte delle illusioni dell'immagine l'effigie può essere anche un'immagine di ombra e vi faccio notare che l'ombra del pittore è proietata sulla tela sopra all'escrizione alla destra anche di Chirico dipinge il suo nome come parte di un'immagine nell'immagine e accanto all'occhio nella superficie bianca e anche lì troviamo un'ombra gettata dall'angolo ripiegato in entrambi i casi la ferma ha un triplice ruolo primo è il segno dell'opportunità del dipinto secondo è posta proprio accanto all'immagine dell'artista il volto per Poussa l'occhio per di Chirico dichiarando così quest'immagine sono io e terzo le ferme fanno parte di un'opera all'interno di un'altra opera che simboleggia anche essa l'identità dell'artista nel caso di Poussa è un sudipinto nel caso di di Chirico che cos'è è un biglietto da visita come abbiamo visto l'intera composizione imita una sorta di portacarte in tramploi con vari piani soffrapposti che il rettangolo bianco è un biglietto da visita è testimoniato dal fatto che ha l'angolo ripiegato era uso comune ripiegare l'angolo del biglietto quando era il mittente stesso a consegnarlo di persona e non un incaricato infine c'è sopra il nome di di Chirico proprio come su un suo normale biglietto da visita l'angolo piegato ricade proprio sopra l'occhio che come abbiamo detto è un altro simbolo dell'identità di di Chirico di Chirico non fu il primo a giaccare con i biglietti da visita in versioni dipinta o veri Picasso lo fece per primo nel tavolo dell'architetto del 12 in cui dipinse in versioni del biglietto da visita da Gertrude Stein è qua giù in basso a destra servì al suo scopo la Stein infatti acquistò il dipinto in un collage di epoca successiva incolò un vero biglietto con l'angolo ripiegato per non inserendo mai in una sua opera la rappresentazione del suo biglietto da visita personale Picasso trovò il modo di includere la propria ferma in modo analogamente parodico a modi tramplori come quando la inserì nella targhetta sulla cornice di un quadro come vediamo giù a destra De Chirico ferma il quadro anche in un altro modo con un X un X la forma del pane in primo piano in basso è una delle tanti X che incompaiono nelle opere di De Chirico come vediamo nell'immagine a sinistra composizione metafisica del X l'X rappresenta graficamente in greco la lettera che viene usualmente trasletterata come CHI cioè la silliba centrale del cognome de Chirico nel mio saggio contenuto nel catalogo di questa mostra spiego più dettagliatamente le ramificazioni di questo simbolismo Poussin dipinse il suo autoritratto nel 1650 per un carissimo amico Paul Freart di Chantalou che era uno dei suoi più importanti mecenati vivevano a grande distanza l'uno dall'altro Poussin si trovava a Roma e Chantalou a Parigi questo autoritratto assumeva quindi il ruolo di una testimonianza di amicizia a distanza benché non amasse gli otto ritrati Poussin vuol dare dimostrazione a queste mecenate spesso difficile e geloso della sua costante dedizione e di un'amicizia inspirata al mutuo amore per la pittura per questo è l'incluso in la dipinta la figura che simboleggia la pittura scinta da un paio di braccia le braccia dell'amicizia che si estendono fuori dal quadro superando grandi distanze come quelle che separavano Poussin da Chantalou è molto probabile che De Chirico avesse letto la famosa biografia di Poussin scritta da Giovanni Pietro Bellori in essa Bellori illustra in dettaglio le caratteristiche della figura femminile del diadema che porta sul capo e delle braccia tese verso di lei l'autoditrato di Poussin spiega Bellori è un'allegoria dell'amicizia cito questa è la pittura e vi appariscono due mani che l'abbracciano cioè l'amore di essa pittura è l'amicizia a cui è dedicato l'intrato così egli espressi le lodi e l'affetto verso quel signore che sempre lo feva rì per la sua nobile inclinazione fine citazione il legame tra pittura e amicizia era stabilito da lunga data a cominciare da Leon Battista Alberti che disse cito conciò sia che ella ha in sé una forza divina tal che non solo ella fa quel che dicono che fa l'amicizia che ci rappresentano essere le persone che sono lontane ma ella ci mette in ansi agli occhi ancora coloro che già molti e molti anni sono morti tal che si vengono con grandissima meraviglia del pittore e dilatazione di chi li riguarda fine citazione questa è la funzione particolare all'origine stessa della pittura le persone e le cose sono rese presenti nella loro assenza eppure sono assenti nella loro presenza nel saluto dell'amico lontano De Chirico è doppiamente presente nella sua assenza e doppiamente assente nella sua presenza crea un autoritratto e uno sguardo reciproco senza raffigurare la sua vera effigi ma si fa vedere da noi e ci manda il suo saluto attraverso una serie di segni autoreferenziali anche De Chirico inviò il suo autoritratto ad un mercenante un altro francese anche di non Paul il mercante Paul Guillaume di Parigi con il quale aveva un costante scambio di lettere De Chirico ha spedito quasi tutta la sua produzione pittorica dall'epoca a Guillaume ma nessuna delle altre nature morte ha un titolo così specifico che sottolinea il suo duplice ruolo di messaggio e di messaggero il titolo le salute una milontan è scritto in francese sul retro del telaio del quadro è scritto di suo pugno da Guillaume stesso per suggerimento di De Chirico in consultazione con lui le lettere dell'epoca a partire dall'estate del 15 mostrano un De Chirico costantemente afflitto per la distanza che lo separa dalle scene e dal mercato dell'arte di Parigi nel caso di Poussin era scento lui il personaggio difficile e dubioso nel caso di De Chirico era l'aposto era lui nelle sue lettere a Guillaume ad essere gioloso perché il mercante promuoveva altri artisti era De Chirico di aver bisogno di rassicurazione in quella situazione di grande distanza e le sue lettere sono piena di amore comune per la pittura caro amico scrive a Guillaume nel settembre 1915 sono felice di sapere che c'è un uomo come te al mondo un uomo che è sia un amico che un collaboratore che tu sia così entusiasta delle cose metafisiche per così dire vuol dire che tu caro amico devi avere davvero una rara intelligenza con la sua criptica autoraffigurazione e un'evidente abilità pittorica De Chirico dà testimonianza della loro amicizia e dal reciproco amore per la pittura invia Guillaume un saluto da un luogo lontano e piega l'angolo del biglietto ad indicare che lo ha consegnato personalmente De Chirico ancora per noi è presente nella sua assenza e assente nella sua presenza grazie ringraziamo davvero moltissimo Emily Brown per questa lettura per questo affondo analitico così sorprendente nell'opera di De Chirico che dà anche conto della ricchezza e della densità dei suoi riferimenti io ho dimenticato di dire all'inizio che Emily Brown è autorice di un saggio in apertura del catalogo di questa mostra saggio che in parte coincide con alcuni dei punti toccati in relazione di questo pomeriggio però la ringrazio davvero perché questa è stata una conferenza che ha anche per la vivacità visiva della presentazione di queste fonti è stata davvero molto incisiva io mi domando se qualcuno ha qualche domanda da chiedere c'è il tempo eventualmente volevo anche fra l'altro ringraziare Emily Brown per aver parlato in italiano in questo splendido colto italiano che la contraddistingue grazie grazie sono Antonio Giordano volevo chiedere se nel chi c'è un riferimento anche all'iniziale Christos visto che spesso lui mette il pesce la cui parola greca Ictius ovviamente è Gesù Cristo figlio di Dio Iesus Christos Teu Ios Oter ma parla del Cairo il simbolo di Cairo no la lettera chi greca si ma anche si spesso lui mette il pesce è Cristo si nelle sue nature morte spesso c'è il pesce però sembra anche un po' con humor con ironia perché come il guanto nel ritratto di Guillaume Apollinaire quindi volevo se nella nota io non ho letto il saggio ancora ma complimenti perché è un bellissimo studio mi fa molto piacere leggerlo al più presto ma volevo sapere se nelle note il riferimento lei ha detto poi in nota troverete gli altri riferimenti del chi se c'era anche quella a Christos si noto nel saggio il fatto che quando gira la croce l'X viene poi la croce e questo è un riferimento sì a Cristo ma non ho parlato del pesce nei quadri ce ne sono quattro mi pare nel periodo medifisico e secondo lei invece nella natura morte di De Chirico il pesce ha riferimento a Cthius o no? sì perché lui vuole fare un riferimento a diverse cose questa fa parte della sua erminutica diciamo un'interpretazione alla folia con diverse cose quindi sì può essere anche un riferimento e ovviamente lui era conoscente di questo riferimento molto famoso sì certo grazie con ironia senza altro con ironia certo grazie bene possiamo guardare il quadro dentro la mostra il saluto dall'amico lontano spero con una nuova visione grazie ancora Emily Brown e grazie anche a voi io do appuntamento al prossimo appuntamento del mercoledì metafisici che sarà il 5 di maggio ci raggiungerà Mimmo Iodice che naturalmente è protagonista della mostra al secondo piano dei palazzi delle esposizioni arrivederci grazie a tutti